E' un'altra cosa. Dovrei cambiarti in auto. No, non vengo per allenarmi. Io sono... Ero amica di Daniel. Hai saputo, eh? Ancora non ci credo. Ho pensato di vedere la palestra. Ne parlava sempre. Danny era un gran combattente. E anche un grande uomo. Victor Jankrow. Tracy. La sua ragazza? Suppongo. Ci conoscevamo da poco, ma... colpo di funile. Come riuscite ad allenarvi dopo che... Dobbiamo, siamo Marine. Io ero il sergente di plotone di Danny. Parlava in continuazione di te. Garantito che di tutte le cose che ti ha detto è vera la metà. Pensavo che vedere dove si allenava mi avrebbe aiutata... Conosci i suoi compagni? No, mai visti. Ehi, fermatevi. Ragazzi, venite. Venite. Forza, venite qui. Caporale Craig Bengold in congedo. Caporale Dale Johnson. Caporale Nelson Shabazz. Lui è Jason Wilder. Tracy, la ragazza di Danny. Sì? Come lo hai saputo? Dalla polizia. Il mio numero sul cellulare. Aveva i numeri di moltissime ragazze. Beh, forse io sono l'ultima a cui telefonavo. Dai, Jason, ci stiamo male tutti. Avrei fatto meglio a non venire. No, no, anzi, senti, torna a trovarci quando vuoi. Grazie. A te di essere venuta. Ehi. Scusa, ma Jason è ancora frastornato. Naturale. Senti, se ti va di parlare, ci sono cose che io... Andiamo a bere qualcosa, eh? Certo. In memoria di Danny. Il fatto... Luca, grazie a tutti. Grazie a tutti.